il servizio prematrimoniale è un servizio di coppia che si fa qualche tempo prima del matrimonio serve a conoscerci a capire come sto io dietro la macchina da presa e soprattutto come state voi davanti alla macchina da presa serve anche per scoprire che fare le foto di posa è molto meno spaventoso di quanto uno non si aspetti inoltre vi consegnerò le foto del prematrimoniale prima del giorno delle vostre nozze così che possiate vedere il risultato e avere un pensiero in meno nel giorno del matrimonio